Ho visto dei vetri rotti per terra, la finestra rotta e che mancavano le transenne come adesso puoi vedere che le abbiamo raccolte su dal fosso, tutto qua. Questa mattina alle 7.15. Quindi lei è stato il primo ad arrivare? Ad arrivare a vedere che avevano effettivamente fatto dei danni abbastanza importanti. E Luca Callegari, vigilante della Vis Group di Montebelluna, a lanciare l'allarme poco prima dell'apertura del Covid Point qui in zona industriale a Casier, dove per qualcuno è stata un'autentica notte di follia. A dimostrarlo i vetri rotti del container adibito ad accettazione, la serratura forzata e ancora le transenne gettate in un fosso vicino, un atto certamente non realizzabile da una sola persona. Probabilmente sono state almeno 4-5 persone, tutto qua. A sparire letteralmente anche i cartelli di indicazione del Covid Point, una mancanza che in un primo momento ha spaisato gli stessi utenti. La gente sì, era un po' preoccupata, abbiamo dovuto mettere le macchine di traverso qua in ingresso, quindi ci sono fatti un po' di domande all'inizio, poi con calma abbiamo cercato di spiegare la situazione e per fortuna non abbiamo capito tutti quanti la situazione e sono stati più che ragionevoli nei nostri confronti. Vigilanti e volontari che prima hanno chiamato i carabinieri, poi si sono messi subito all'opera. Vetri rotti, pezzi di plastica, maniglie distrutte in mezzo alla strada, abbiamo dovuto ripulire in fretta per appunto fare entrare la gente a farsi il tampone stamattina. Sul posto anche il sindaco Renzo Carraretto, convinto che si tratti di un gesto vandalico puro e non di un atto di matrice Novaxa, anche se su questo stanno indagando i carabinieri che per il momento non escludono alcune ipotesi. Nessuna rivendicazione comunque è stata fatta nel corso della giornata. Se fosse un vandalismo provocato per poter in qualche modo danneggiare il sistema, di certo credo che non si vada su un punto tamponi, perché potrebbe essere quello vaccinale, ma un punto tamponi anche no, perché i tamponi sappiamo che è una necessità per tutti. L'attenzione degli inquirenti ora si concentra sulla videosorveglianza della zona. Diciamo che qui vicino, come si vede, essendo una zona industriale, telecamere ci sono, sia a livello privato dell'industria, sia a livello anche un po' di sorveglianza della strada. E dunque adesso cercheremo di appurare il tutto e vedere se riusciamo a capire i movimenti che ci sono stati questa notte. Primo cittadino che si rivolge anche agli autori e già studia una possibile sanzione. Riprestinare quello che si rompe e che rompono, andare a riprestinarlo, ma con mani, non con mezzi o con attrezzatura, ma con le mani stesse. Andare a riprestinare e metterci anche qualche soldino per riprestinare, così si fa presto a capire la fatica per mantenere l'ordine che c'è.